Anticipazione una vita. Sabato 11 luglio 2020. Puntata serale in onda su rete 4. Fabiana ha pietà per la disenta e chiede a Augustina di accettarla in soffitta. La Dark Lady una volta giunta da Casias 38 ruba le chiavi a Giacinto e si intrufola nella sua vecchia casa abbandonata. Servante ancora ossessionato dal congresso degli scienziati e dal suo forte desiderio di prendervi parte decide di rubare con l'aiuto del portinaio il quaderno di uno dei clienti della locanda. Ma esso non contiene alcuna formula magica ma soltanto dei disegni. Il Dominguez riceve la notizia che il direttore dell'accademia di Sinta si rifiuta di accoglierla a seguito dello scandalo verificatosi presso il cafetina. Bellita insiste nel mandare sua figlia in un collegio in Svizzera. Sinta accetta che Vittoriano sia il suo promotore ma condizione che non le faccia usare il nome della signora del mistero. Emilio li vede parlare insieme e sospetta che Vittoriano non sia completamente leale e sincero. Rosina è ancora preoccupata per Enoveva. Che cosa le sta succedendo? Liberto si rifiuta di entrare nel suo appartamento per vedere come sta. Antonito propone a Lolita di fuggire lontano dalla Spagna per evitare di arruolarsi e partire per l'Africa. Ramon trova un'altra soluzione per impedire al figlio di andare al fronte e ovvero dichiarare davanti al ministero della guerra che è disabile e che ha bisogno di assistenza e presenza continua. I Palacios così si mettono in attesa dell'ispettore. Carmen riceve una lettera d'amore da parte del suo amato che le chiede nuovamente pazienza e le regala poi una spilla come segno del suo amore. Ursula nell'appartamento un tempo appartenente a Cayetana e ora abitato dalla Salmeron giura a se stessa che farà di tutto per ridiventare la potente donna di una volta. La signora in preda al delirio a un tratto fa cadere un oggetto per terra e Rosina vuole salire per capirci qualcosa in quanto teme che Enoveva abbia bisogno di aiuto. Emilio indaga suo Vittoriano e scopre che è un imbroglione. Allarmato cerca di avvisare Sinta che gli risponde male invitandolo a non ficare il naso nei suoi affari. Vittoriano intanto svolge il suo ruolo di rappresentante molto ambiguamente. Jose fa capire a Bellita che sarà Arancia a far ragionare Sinta. Servante è alla ricerca di un nuovo modo di fare affari con il congresso scientifico e vorrebbe offrire ai partecipanti una cena per impressionarli positivamente. Fabiana però si rifiuta in quanto non vuole competere con il ristorante di Felicia. Enoveva ritorna da Casias accompagnata da un uomo. Alfredo Breeze, suo marito.